In Marmo abbiamo affrontato una proposta di delibera presentata da sottoscritto riguardante la decadenza di 20 mappali di cave intestati in totale a 128 persone o società. La delibera nasce da una delibera di giunta del 2013 che a quanto pare è rimasta nel cassetto in tutti questi anni nonostante una iniziativa del Consiglio Comunale del Sottoscritto nel 2014 che avrebbe dovuto essere portata a compimento dall'Azienda. Oggi a giugno 2016 siamo ancora a caducare questi agri marmite. L'impegno che si è presa la Commissione e l'Ufficio Marmo è quello di portarle la delibera di decadenza in Consiglio Comunale nei prossimi giorni in modo tale che finalmente il procedimento che è rimasto nel cassetto per tutti questi anni trovi il suo complimento. Complimento all'amministrazione che è riuscita a dimenticarsi una delibera così importante ai fini politici perché oggi non dimentichiamoci che stiamo affrontando una battaglia giudiziaria e in corte costituzionale guarda caso proprio sui mappali, sulle città che rivendicano la proprietà privata di mappali che sono agri marmite. Grazie a tutti.